ecco max che si sbaffa si sbaffa la pensione della malgassona eccolo qua il nostro max che si sta sbaffando completamente la pensione della malgassona la malgassona è rimasta senza pensione per tutti gli investimenti coi toyboy ecco il nostro max vedete che allontana anche l'altro toyboy perché si vuole sbaffare da solo tutti i soldi che la malgassona investe della sua pensione grande max il nostro toyboy max non lo frega nessuno super toyboy max eccolo qua come vedeteci da dentro tutti questi investimenti della malgassona hanno tolto tutta la pensione alla malgassona tutta la pensione alla malgassona tolta grande max grande toyboy max